Amico mio, in quale corpo stai? Amico mio, ogni giorno ti svegli e allo specchio non sei tu. Senti di avere dentro colori diversi, diversi da quelli che ti sono stati dipinti fuori. Sei nato e cresciuto a fatica, in famiglia, fra i compagni, combattuto dalla voglia di ridere con loro e quella di scappare a casa per non essere deriso. Sei cresciuto come hanno voluto gli altri, come dovevi far vedere agli altri. Ma tu, amico mio, in quale corpo stai? Non è il tuo corpo, non è il vestito giusto per la tua anima, ma tu in quale corpo hai dovuto rimanere fino ad ora? Sei dolce, sensibile, hai tanto amore da regalare, ma forse non hai un corpo da dare a chi vorresti amare. Da quando hai capito chi sei, non chiedi altro che di poterlo essere. Ma se il tuo è amore, anche se cambia forma e aspetto, che importa? Tu rispetti gli altri ed è questo che conta, e allora perché qualcuno non ti rispetta? Ti mette nel mucchio dei perversi, dei cattivi, degli odiati, ma tu non sei così, non sei così. Tu da sempre cerchi amore e comprensione, e vuoi solo poter amare al sole. Certo che noi gente facciamo presto a parlare, noi gente usiamo spesso parole senza senso, parliamo dei diversi, ma dico io, diversi da chi? Diversi da cosa? Diversi da cosa? Diversi da cosa? Diversi da cosa? Diversi da cosa?